Nel video di oggi vi mostrerò come realizzare un trucco molto semplice dai toni del rosa, un colore che spesso viene poco utilizzato, ma che a mio avviso utilizzato nel giusto modo può risultare molto portabile per la vita da tutti i giorni. Spero vi piaccia e alla prossima! Partiamo come sempre dal correttore e andiamo a contrastare gli occhiaie con la colorazione 02, e se poi serve aggiungo anche un pizzico della 04. Con un pennello abbastanza piccolo ma non troppo fitto e piatto, lo tampono dove serve, quindi dove ho la zona scura dell'occhiaia. Se vedo che la mia occhiaia è tanto scura oggi, allora cosa faccio? Prendo un pizzico anche dello 04 e lo aggiungo dove serve. Tampono e non tiro perché se vado a tirare porto via il prodotto. Una volta applicato lo lavoro leggermente con le dita. Potete vedere la differenza della zona corretta e della zona non corretta. La differenza c'è e si vede. Il fondo tinta lo prelevo direttamente dalla cialda col pennello, quindi potete tranquillamente anche andarla a prelevare con la cialda. Oggi utilizzo tutti i prodotti di Lame Life, quindi non mi ripeto a dire che sono i prodotti di Lame Life, e lo vado a sfumare e a lavorare per bene. Non ne applico tanto perché voglio comunque una base leggera. Magari poi vado un po' più localmente dove ho le discromie. In questa zona che ho diversi brufoletti oggi, però sono freschi per cui li vado a coprire, ma quando sono così freschi risultano caldi, per cui vanno a sciogliere i prodotti che si vanno ad applicare agli sopra. Io comunque per attenuarli un pochino vado direttamente col dito, vedete, che va ad attenuare il rossore. Volendo si può andare ad applicare magari prima del fondotinta un correttore verde, che può aiutare ad andare a contrastare il rossore del brufoletto. Sono andata leggermente anche ad applicare un po' di correttore su tutta la palpebra, e cosa che dovevo fare prima, mi sono dimenticata, vado ad applicare un po' del Perfect Glow. Questa è una crema corpo luminosa, questa è nella tonalità rose gold, e la applico come se fosse un illuminante liquido, un illuminante viso. Questa è bellissima ad applicare sul viso per un effetto, vedete, molto luminoso, però si può tranquillamente utilizzare anche sul viso. Se non amate i mini glitterini, dei mini glitterini che sono presenti in questa crema, allora vi consiglio di più gli illuminanti viso, che quindi hanno un effetto un po' più metallizzato, però sempre molto portabile. Ora vado a scaldare il mio incarnato con un fondotinta da una tonalità più scura, io vado a miscelare la colorazione 15 e un pizzico della 09, che sono queste due, sempre con lo stesso pennello con cui avevo applicato il fondotinta, ne prendo davvero poco, e lo vado ad applicare qui, come se fosse una sorta di bronzing in crema, quindi una terra in crema praticamente. Diciamo che la differenza rispetto a un bronzer in polvere, anche se comunque poi se si vanno a scegliere delle texture sottili, sottili non si percepiscono. Comunque la differenza è che risulterà molto più naturale. L'applico un po' qui, un po' anche qua, e lo tiro un po' anche sul collo. Vedete che non è nulla diretto, penso qua pian pianino sfumo, e risulta molto molto naturale. Sono andata a scegliere appositamente un fondotinta da una tonalità calda, perché non volevo andare a fare un contouring, ma volevo dare un effetto di pelle abbronzata. Come blush andiamo ad applicare il rossetto liquido nella colorazione creme brulee, che è questo rosato, glielo vedete più rosa, però è un rosa molto molto portabile, e cosa faccio? Lo applico sul dorso della mano, quindi un pizzichino, forse già troppo l'ho messo, e lo vado ad applicare con il pennello con cui avevo applicato il fondotinta. In questo modo risulterà molto meno acceso. Vedete che lo vado proprio a lavorare, con le setole del pennello le prendo pochino alla volta, e poi lo vado a lavorare. Lo posiziono appena sopra rispetto a dove avevo applicato il bronzer, il fondotinta dalla tonalità più scura e calda, e lo sfumo verso l'alto per dare un effetto lifting. Vedete che bell'effetto, mi piace anche la colorazione. Vedete che con un rossetto liquido si può tranquillamente andare ad utilizzare anche sul viso. L'aspetto positivo di andare ad utilizzare dei rossetti liquidi sul viso è che anche in questo caso risulteranno molto sottili sulla pelle e avranno una lunghissima tenuta, per cui questo diciamo che aiuta un po' anche riguardo al fatto che dobbiamo indossare ancora la mascherina. Ora fissiamo e iniziamo con andare a fissare il contorno occhi, utilizzo un pennello un po' più piccolo per essere più precisa. Vado a fissare il centro del viso, utilizzo un pennello un po' più grande, ho noto che è troppo grande, cosa faccio? Lo vado a piegare con le dita e vado a tamponare dove serve, principalmente nella zona T. Come sempre quello che rimane sul pennello lo porto sul resto del viso. Per enfatizzare l'aspetto luminoso di questa base luminosa vado a sfumare l'illuminante 06 con un pennello molto ampio, quindi lo applico praticamente dove avevo utilizzato l'illuminante in crema e poi sfumo solo e soltanto un po' di bronzer, non vado a utilizzare il blush in crema, il polvere. Il bronzer 01, questo è da una tonalità satinata, per cui mi andrà ad esaltare ancora di più la bronzatura e la luminosità. come sempre cerco di essere leggera nei movimenti, quindi non fare movimenti troppo pesanti per non rischiare che si vadano a creare delle chiazze. Ok, la nostra base è fatta, quindi possiamo dedicarci agli occhi e parto come sempre dall'infra-cignale, questa è la colorazione marrone, tiro su la palpebra e faccio dei piccoli tratteggi. Ora prendo la matita rosa, un rosa bello freddo, super luminoso, questa fa parte della matita duo dove si trova da una parte il blu e dall'altra il rosa, l'ho temperata molto bene e vado ad applicarla praticamente su tutta la bordatura, quasi fosse una riga di eyeliner, però non vado a fare ecco una riga di eyeliner netta, quindi vado proprio alla base delle ciglia, faccio una bordatura, mi farà poi da base per il successivo ombretto che andrò ad applicare. Magari nella parte più esterna, ad occhio aperto, la disegno leggermente più spessa. e faccio una piccola 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 godina. L'applico anche nell'angolo interno, il picchietto. Qui la nascio netta, vado a picchiettare solo l'angolo interno per sfumarlo un po' di più arco. Ora, per renderla più visibile, vado a prelevare il numero 23, che è questo qui. Mi prendo un pennello piccolino piccolino, è abbastanza compatto, prelevo il colore e lo vado a posizionare esattamente dove avevo applicato la matita. Vedete che si scurisce leggermente, ma rimane sempre da un sottotono rosato. Ora, con le dita, prendo il numero 20, sì, il 20, che è sempre un colore luminoso da un sottotono rosato, e dove vado ad applicarlo? Vado ad applicarlo praticamente su tutta la palpebra. e questo mi aiuterà a sfumare anche l'ombretto che avevo applicato al di sotto. Ora, prelevo il numero 18, che è questo colore qui, e lo vado ad applicare nella parte più esterna per andare ad intensificare leggermente. Quindi, invece di andare ad utilizzare un classico marrone opaco, utilizziamo un colore luminoso. Ora faccio le sfumature con gli ombretti opachi e vado prima con il 33 e lo sfumo nella parte più alta. Quindi, ad occhio aperto, lo posiziono in questa zona qui. E poi, con la tonalità più fredda, questo è il numero 40, lo vado a posizionare proprio nella piega. Vedete che si sta creando quest'ombra un po' più fredda. si vede rispetto a qui. Mi darà più profondità. Movimenti piccoli, circolari e leggeri. Si vede la differenza. Qui l'occhio è un po' più profondo rispetto a qua, che risulta un po' più piatto. Andiamo a piegare le ciglia e poi applicare il mascara. Ho applicato prima il Making Waste, che è waterproof, così sono sicura che il mascara non mi va a sbavare. E adesso, per dare un effetto ancora più lungo, vado ad applicare il Perfect Mascara, che ha all'interno delle fibre. Quindi, mi concentro principalmente sulle punte, praticamente per dare un effetto, guardate già la differenza, per dare un effetto di ciglia ancora più allungate. Adesso lo applico in un occhio, così vi faccio vedere la differenza rispetto all'altro, dove ho applicato solo il Making Waste. Allora, qua ho applicato Making Waste più il Perfect Mascara. Potete vedere come sono lunghe. E di qua, invece, ho applicato una sola passata di Making Waste, quindi insieme riuscite ad ottenere questo bellissimo effetto. Contorno le labbra con la Dark Nude. Ora vado a riscelare il rossetto che avevo utilizzato prima sulle guance che è creme brulee con un po' di gloss, questo è Hope. Per vedermi meglio utilizzo lo specchiettino che c'è qua dietro, che è molto molto comodo. il video è terminato, questo è il risultato finale. Fatemi magari sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto come make-up, come trucco rosato da indossare tutti i giorni tranquillamente. io vi ringrazio per aver guardato il video e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!